Anche tu hai il frigo praticamente vuoto e l'unica cosa rimasta sono le uova Sono le uova E del tonno e la maionese Questa ricetta potrebbe interessarti Ingredienti, uova, maionese, a me piace questa Se a voi ne piace un'altra e non vi piace questa, cazzi vostri, non capite niente E tonno Io prendo questo tonno perché questa volta era scontato questo Altrimenti prendo un altro tonno Perché il tonno scontato è il migliore Visto che costa l'ira di Dio Prendete una padella, una pentola, un calzino E lo riempite di acqua fredda Se le uova le avete messe in frigo Se no la mettete comunque con le uova fredda E le schiaffate dentro Così vanno a temperatura un po' più lentamente E evitano di spaccarsi quando le avete cosate Se invece avete le uova fresche fuori dal frigo Perché siete ricchi e avete le uova fresche Potete farlo anche dopo Fate il cazzo che volete Basta che diventino sode, dai Allora, idealmente dal bollore dell'acqua Dovrò passare 7 minuti prima della completa cottura dell'uovo Ora quando le mettete dentro Se sta già bollendo Ma visto che le mie uova sono fredde di frigo Ci impiegheranno di più In ogni caso lasciate lì Anche se stracuociono non ve ne frega un cazzo Dovrò diventare completamente sode Scolate il vostro olio se con l'olio Dentro una bottiglia Perché l'olio non va nei tubi Se lo mettete nei tubi Vabbè, se ne cade qualche goccia è un conto Ma se ne mettete dentro un litro Anche dopo aver freddo non è il massimo Quindi io tipo mi faccio l'imbutino C'ho la mia bottiglietta Che poi vado a portare Alla bellissima piattaforma Ecologissima Mamma mia quanto è ecologica quella piattaforma E niente Mi raccomando Non buttate lì neanche nel water Nessuna delle due Rovinate la falda acquifera A questo punto Prendete la vostra ciotolina Mettete qua col tonno Prendete una forchetta Prendete la maionese E sperate in Dio Che quella roba venga pronta prima Ah, ho ridipinto tutto Non so se avete visto E dalla voce Non so se si nota Ma Sono appena svegliato Ho sonno Sono le 8 e 12 di sera Sto facendo colazione Non so più niente Ciao Prendete il tonno Lo prendete Lo scaraventate direttamente Nella ciotola E poi ci andrete a mischiare Assieme i tuorli Una volta Pronti Quindi per ora Vi grattate Letteralmente dovete grattarvi E basta Non dovete fare nient'altro Spiacicatelo un po' Così che non si facciano grumi Deve essere Bello spiacicato il tonno Ok Sono passati circa 6 anni Non lo so quanto è passato Non ne ho la minima idea Di quanto tempo sia passato Mi son perso via Guardate TikTok Sicuramente sono passati Più di 7 minuti Facciamo una prova con una Per sicurezza Riempiamo La ciotolona Di acqua fredda 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 E vediamo Se si sbuccia bene Se non si sbuccia Sti cazzi Ok Le estrago con le pinze Così almeno L'acqua rimane calda Nel caso non siano ancora Del tutto cotte Vediamo un po' Se riesco A sbucciarle Idealmente Dovrei farle raffreddare bene Per sbucciarle bene Ehi cazzi mazi Ma io non ci ho sbatti In questo momento Ho fame Ho fame Ho fame Dopo essersi raffreddata Per ben 10 secondi Direi che È l'ora di Provare ad aprirla Mi sembra un po' morbidina Mi sa che Qua qual quadra Non cosa Oltre al fatto che Non avendola fatta Raffreddare bene Si sbriciola tutto il guscio Ma Così è la vita La vita è come una scatola Di cioccolatini Se ci voglia di aspettare Di mangiarla Bene Altrimenti Ti la mangi D'estate Ti si squaglia in tasca E poi Devi buttare anche via I pantaloni Già che ci sei Sembra che ti sei cagato addosso Poi magari Ti sei anche cagato addosso Perché magari Il poco cioccolato Che hai mangiato Aveva pure il glutine E sei celiaco E la vita Non ti sorride Dalla nascita Dopo aver disintegrato L'uovo Palesemente Non è ancora Del tutto cotto Quindi questo qua Lo lasciamo qua da parte Come monito E il resto Resterà a cuocere È già un quarto d'ora Abbondante Che è a ebollizione E non sono ancora sode Quindi io sta cosa Di 7 minuti Non la capirò mai Ghiaccio Magari lo shock termico Eh Magari Perché sicuramente Sto avendo uno shock Io Sta roba Sta bollendo Da Tipo Altri 10 minuti Se non sono pronti adesso Io Do fuoco A Skypiea Di One Piece Torno indietro E Quando ancora One Piece Non faceva schifo E Do fuoco a Skypiea Allora Tentativo numero 2 E Tentativo numero 3 Questo Starà qua per sempre Come monito Alla disgrazia Che è stato Quell'uovo Questi danno Una sensazione Effettivamente Di essere Sodio Al tocco Vediamo se Si sbucciano Anche con la stessa Facilità Con cui dovrebbero Sbucciarsi Dopo il mega shock Termico Fallico Si sta La prima volta Che riesco A sbucciare Un uovo Senza distruggerlo Completamente Fai bravo Non distruggerti Please Sì la pellicolina Sta andando via Grazie Grazie satana Grazie Grazie santi Del cielo Che vi ho bestemmiato Tantissimo Per riuscire A fare Questa roba Grazie Sto avendo Un piccolo collasso Cardio Cardiocircolatorio Ok Sono riuscito Finalmente A sbucciare Tutto Non l'ho Distrutto Quasi del tutto C'è ancora un pezzettino Di uovo Tagliamo la metà Vediamo se Effettivamente È completamente Sodo Sì Perfetto Perfetto Leggermente ancora Morbidino al centro Ma va bene così Allora adesso Separiamo i tuorli E li sbucciamo Dentro Sbucciamo Sburi E cosa Dentro Nel Tunno Sarebbe stato meglio Avere molte più uova Ma Andrà così Adesso Per la magia Dell'editing Avrò finito di farlo Tadam Allora adesso Prendete la vostra maionese Una bella cucchiaietta Di maionese Ce la schiaffate dentro Così E date una bella mischiatina Tutto qua Ed è praticamente finita Volendo potete metterci Anche i capperi Mio nonno ci metteva i capperi In sta roba Io non ce li metto Perché mi fa un schifo Comunque Questa doveva essere Tipo una ricetta Super mega Low budget Diciamo Per poveri Ma Col prezzo attuale Del tonno Io boh Cioè Ste cose qua Le mangiavo da piccolo Non costava niente farlo Era letteralmente La roba che mangiavo In Sardegna Quando andavo al mare Da piccolo In spiaggia Le uove E la pasta fredda Adesso sembra Di fare Che cazzo ne so Di andare al ristorante E prendere un filet mignon Da quanto costa Il tonno È assurdo Anche i pinoli Pinoli cazzo Te li lanciavano dietro Quando ero piccolo Li davano gli uccellini Non li mangiava neanche la gente Mangiavo solo io Adesso li mangiano tutti E costano Come Gesù bambino a Pasqua Boh Comunque Il succo è Prendere sto schifo Grigoso qua Che sembra che faccia schifo Ma in realtà è buono E lo prendete E lo schiaffate di nuovo Dentro nel suo Involucro bianco E va È scomparpo Dov'è Dove essere caduto per terra Proviamo di nuovo Non so dove si è andato a finire Scusate Provo di nuovo Ve lo faccio vedere Niente scompare Non so Magari con la Nasocam Si capisce meglio Che cazzo sta succedendo Perché È strana sta cosa Io metto la roba Sopra l'uovo L'avvicino La telecamera Adesso ho capito Spero vi sia piaciuta La ricetta Perché A me piace un casino Sta roba C'è proprio così Lissa Metteteci sopra Quello che volete Ma già così Lissia E' buonissima